Buongiorno, sono Stefano Perinotto, grazie a tutti di essere qui. Io sono Solution Consultant in ServiceNow e mi occupo in ServiceNow della soluzione dedicate proprio ai dipendenti in ambito in ambito europeo. Oggi quello di cui vorrei parlare, di cui vorrei parlarvi è proprio come stanno cambiando il luogo di lavoro, come sta cambiando anche il modo in cui le persone lavorano e quindi come fondamentalmente le aziende devono adeguarsi, hanno necessità di adeguarsi a questa nuova normalità che tutti noi stiamo vivendo e che ci auguriamo tutti quanti di finire al più presto. In effetti appunto dalle varie indagini di mercato e di analisti indipendenti si può osservare come tutti, quasi tutti le aziende, tutte le aziende hanno necessità di reinventare nuovi modi di lavorare, ma per forza di cose perché appunto il modo in cui ora vengono gestiti le persone, le risorse, le attività lavorative sono fondamentalmente cambiate, molto molto cambiate. E c'è un altro concetto molto importante che possiamo leggere qua, su cui torneremo, che è quello legato alla sicurezza, che fondamentalmente è una novità, tra virgolette, una spiacevole novità, ma che per forza di cose dobbiamo necessariamente affrontare. In effetti possiamo vedere come è cambiato il modo di lavorare nelle aziende. Abbiamo ormai un vago ricordo di com'era prima della pandemia, tutti in ufficio, tutti appassionatamente in ufficio a lavorare insieme, a trovarci alla macchinetta del caffè, poi purtroppo dall'anno scorso ci siamo trovati ad affrontare una situazione in cui la maggior parte delle persone che lavoravano erano costrette a lavorare da casa fondamentalmente, quindi con diciamo un uso esponenziale di quello che tempo fa si iniziava a fare con lo smart working, quindi un working from home. Quello che stiamo vivendo ormai anche adesso, ma che fondamentalmente sarà il futuro, secondo fondamentalmente tutti gli analisti del settore, è quello che viene chiamato un workplace ibrido, un hybrid workplace, ossia fondamentalmente la possibilità delle persone all'interno dell'azienda e dell'azienda di fornire questa possibilità alle proprie risorse di lavorare in modalità anywhere, quindi da casa, in ufficio, dalla seconda casa, per chi ha la fortuna di averlo. Questo ovviamente aggiunge delle importanti necessità aziendali che le aziende devono affrontare. Queste sono alcune statistiche che potete vedere come è cambiato fortemente, come si è spostato il luogo di lavoro, come è spostato il modo di lavorare. si va da una pre-pandemia con soltanto un 2% dei lavoratori che lavoravano in modalità remota, come smart working, arrivando adesso anche a un 45%, ma ci possono essere anche dei casi, più che meno, che possono anche essere molto, molto, molto di più del 45% delle risorse che decidono di lavorare da casa o hanno la necessità di lavorare da casa. E' vero che lavorare da casa offre anche delle possibilità e delle nuove opportunità. Certamente, io che mi occupo appunto di un ambito europeo, ho sempre molto a cuore di parlare con i miei colleghi nordici. loro hanno già comunque questo modo di integrare il lavoro con la famiglia, con la vita personale, con la vita sociale. Molto spesso faccio conferenze con i miei colleghi della Finlandia e loro sono in giro sul parco con i bambini e fanno le conferenze in questa maniera. Quindi sicuramente anche per noi si è aperto queste possibilità di lavorare, di calibrare in maniera un pochettino più, diciamo, più, più umana, più vicino, più vicino a noi, quello che è le esigenze del lavoro, che devono essere comunque assolutamente rispettate, ma anche quello comunque della propria vita personale, della propria famiglia, dei figli e comunque di tutte le persone che vivono con noi e anche delle proprie attività personali. Ma se parliamo più nel dettaglio di quello che un'azienda ha necessità oggi di fare e per affrontare questa situazione, ci sono tre macro concetti che per me sono molto molto importanti, non tanto per me, ma quelle che vedo più importanti quando parlo con i miei clienti. Sicuramente è quello della produttività. Tutte le aziende vogliono garantire che le proprie persone continuano a essere produttivi e vedremo come questo sarà importante comunque dotarsi di una tecnologia adeguata per fornire ai dipendenti, alle proprie persone di tutta la strumentazione, di tutte le tecnologie necessarie per poter essere continuamente produttivi. Immagino che molti di voi si sono trovati nella situazione di dover gestire un insieme di risorse che dovevano lavorare da casa e non avere il pc fondamentalmente da consegnare per poter permettere di lavorare da casa. Questo è un esempio banale ma che ho sentito spesso dai miei clienti. Il secondo pilastro è quello che viene chiamato in inglese engagement. Io devo far sentire comunque il dipendente, la mia risorsa, comunque come se lavorasse in ufficio, forse anche di più perché io comunque devo dare tutte le possibilità e lo vedremo poi fra poco al dipendente di poter avere quello che gli serve dall'azienda, di poter ricercare in maniera veloce le informazioni che servono. Magari le informazioni sulle ultime novità di come sono le policy aziendali per la gestione dell'emergenza Covid all'interno dell'azienda. Supponiamo che io debba comunque per esempio gestire il mio return to work, il mio ritorno al lavoro. Cosa devo fare? Come lo devo fare? A chi devo chiedere? Ecco, tutta questa serie di interazione e di engagement con il dipendente è un altro importante aspetto che deve essere sicuramente tenuto in forte considerazione. Terzo pilastro e oggi come oggi è assolutamente importante e lo sarà anche per diverso tempo è quella della sicurezza del luogo di lavoro. Tutti ci auguriamo di tornare prima o poi in ufficio magari non tutti i giorni della settimana perché ormai ci siamo abituati che magari il venerdì me la gestisco comunque a casa oppure perché comunque per varie necessità sia personali che aziendali ho bisogno comunque di calibrare la capacità portante comunque degli spazi del luogo di lavoro. Ecco, la sicurezza di lavoro sicuramente è fondamentale oggi. Devo poter dire, devo poter tracciare per esempio, supponiamo che una persona è stata in ufficio la settimana successiva ci si rende conto che fa il test e ops, purtroppo è stata positiva. Quindi devo rintracciare le persone che sono venute a contatto con questa persona. Oppure il fatto di poter anche magari fare l'health screening comunque alla reception per poter dire, guarda dire, magari tu non entri o tu secondo le regole aziendali non hai la possibilità di accedere perché io voglio garantire la sicurezza. O banalmente anche l'organizzare dell'attività di sanificazione o comunque di pulizia del luogo di lavoro. Magari pre e post un meeting in una sala riunione. Ecco, tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato, quindi la parte di produttività delle persone, la parte comunque di engagement e di interazione delle persone e sicuramente last but not least, come dicono gli inglesi e gli americani, la parte di sicurezza deve essere poter gestita in maniera ottimale. Per far tutto questo è logico che non possiamo più pensare di utilizzare i vecchi sistemi. Se si applicano, come dicono nel mio settore, si si occupano metodi nuovi a tecnologie vecchie il risultato è molto spesso non è soddisfacente per l'azienda. L'esempio che porto sempre è se io ho una macchinata del caffè bella quanto volete e poi la dipingo di rosso e ci metto un cavallino sopra, non è che ottengo una Ferrari o comunque una macchinata del caffè che fa magari degli ottimi caffè ma comunque continuano a fare del caffè. Quindi quando parliamo di digital experience o comunque di supporto digitale alle aziende sicuramente quello che dobbiamo tenere conto è che se noi vogliamo garantire questi tre diciamo pillar di cui abbiamo parlato prima in maniera efficiente ed efficace per i dipendenti dal punto di vista aziendale non possiamo prescindere dall'avere una corretta tecnologia che ci supporti in questo programma, in questo processo di trasformazione dell'esperienza alla fine della fiera dei dipendenti. Si parla molto spesso di user experience, employee experience, customer experience, end user experience chiamiamola come vogliamo ma ancora una volta cos'è la user experience? Non è tanto ah che bel portalino, ah che bella app, non è tanto quello. Sì è anche quello perché ovviamente l'occhio vuole la sua parte. Ma è il fatto di poter, di avere la necessità di trovare delle informazioni e trovarle subito. Di richiedere un servizio e di poter richiederlo subito e di avere magari una risposta veloce. Il fatto di poter sapere come sta andando la propria richiesta o magari di essere proattivamente informato dall'azienda su cose che magari possono essere utili a me. A me per il ritorno al lavoro, a me per la mia operatività quotidiana, a me per semplicemente per gestire una qualsiasi richiesta che potrebbe essere dalle più disparate, da appunto non ho capito come funziona l'ultimo cedolino, tipico la situazione che affrontiamo tutti a fine mese, oppure ho una lieta notizia di entrare in maternità quindi devo capire come gestire la maternità. Ecco, se non ho una tecnologia che mi permetta di gestire questi processi, di gestire queste richieste, di gestire queste interazioni con il dipendente, ecco che l'esperienza lato utente zoppica un po'. Per far questo, sicuramente se noi pensiamo a quello di cui abbiamo parlato alla fine, quello sulla sicurezza del lavoro, sicuramente ecco che diventa oggi molto 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 importante avere delle soluzioni, delle tecnologie che permettono di per esempio pianificare lo spazio di lavoro. Io devo poter decidere, per esempio, su un determinato piano dei miei uffici, chi può prenotare cosa e quando, in maniera tale da poter dire, guardate che magari ho deciso che a livello aziendale, ma non solo a livello aziendale, per garantire la sicurezza di tutti, non c'è più in open space, ognuno si esede dove vuole, ma per garantire la sicurezza ci sono solo delle aree dedicate, dei posti dedicati e quindi dare la possibilità di pianificare, quindi la riservabilità e poi quindi ai dipendenti di poter prenotare rispetto a quello che loro possono prenotare con la garanzia della sicurezza, della propria sicurezza, la sicurezza dei propri colleghi, il luogo di lavoro in anticipo, magari magari ricevendo anche un QR code per fare l'ingresso con lo QR code. Tutte cose che agevolano il ritorno a questo modo di lavorare ibrido, come abbiamo chiamato prima, il luogo di lavoro, ma senza impazzire nel dire, oh come faccio domani, cosa prenoto, dove prenoto, devo mandare una mail, ormai la mail purtroppo, o per fortuna, si è resi conto che in questa situazione che abbiamo dovuto affrontare non sempre è stata vincente come tecnologia per gestire queste tipo di richieste o di necessità per i dipendenti. Perché i dipendenti fondamentalmente, quello di cui hanno bisogno, sono tante di quelle cose che voi potete iniziare oggi a delencarle e finire magari durante il weekend. Hanno necessità HR, hanno necessità legal, hanno necessità IT, hanno necessità di legati alla parte dello spazio di lavoro e tipicamente quello che io osservo e quello che mi raccontano i miei clienti è che tipicamente il dipendente ha diversi posti e diversi modi per affrontare queste richieste. Ha un posto dove andare per richiedere richiarimenti sul cedolino, ha un altro posto per andare a chiedere la richiesta di maternità, un altro posto per fare i corsi, un altro posto se ha dei problemi sul mondo IT, eccetera, eccetera, quindi deve impazzire per capire. E tipicamente molto spesso in alcune aziende, anche in molte di questi quadratini, ci sono email come metodologia per richiedere queste cose. Ecco, quello che fa l'azienda per cui lavoro, ma in realtà è molto importante capire il concetto della tecnologia supporto, è il fatto di poter fungere da un unico hub, diciamo di interazione tra il dipendente e tutte le parti coinvolte nei processi che siano amministrativi, che siano comunque legate appunto alla sicurezza, che siano HR, che siano IT, che siano appunto legal, che sono coinvolte all'interno di questa tipologia di processi. Quindi fondamentalmente è un po' una sorta di orchestratore delle interazioni, delle attività, delle servizi, delle richieste, dei processi che esistono. Quindi è un po' come nascondere la complessità che c'è indietro e questa complessità è facilmente poi malleabile a secondo delle necessità aziendali per adeguarsi ai propri momenti. Cosa voglio dire? Voglio dire che fondamentalmente mi sono trovato per esempio a discutere con un cliente poco tempo fa e mi diceva, gli facevo vedere come per esempio con ServiceNow si potesse generare facilmente un documento che attestasse che il dipendente lavora per quell'azienda o qualsiasi altro documento che si voglia generare in automatico. E la persona mi diceva, cavolo, se l'avessi avuto io la settimana scorsa è perché eravamo in pieno lockdown, si poteva uscire per lavoro solo con l'autocertificazione e con un documento che accertasse il lavoro presso presso l'azienda e lei ha dovuto mandare una mail e era ancora in attesa che qualcuno le rispondesse. Quindi qua si vede un esempio molto banale, ma si vede quanto la tecnologia sia importante perché a questo punto invece si poteva semplicemente schiacciare un click, avere comunque il documento già precompilato e mandato comunque al dipendente. Questo è possibile perché? Perché la tecnologia che c'è dietro è assolutamente quella che ti permette di fare questo. E questo è anche il modo in cui le aziende si sono accorti che avevano necessità di trasformare questi processi. Ed è anche il motivo per cui molte aziende worldwide che avevano già la giusta tecnologia in azienda hanno saputo gestire molto meglio l'emergenza Covid. Perché questa tecnologia non è ovviamente, abbiamo parlato tanto del dipendente, non è solo di aiuto ai dipendenti ma anche e soprattutto all'azienda. Perché prima la persona stava ancora aspettando di ricevere questo documento? Probabilmente perché poverino l'HR era sommerso da migliaia di richieste uguali e quindi probabilmente con questi mail non sapeva come gestire questo carico di lavoro. Quindi ecco che l'aiuto è un aiuto a 360 gradi su tutti gli attori coinvolti all'interno comunque dei processi di interazione tra il dipendente e l'azienda. E quindi vediamo come ancora una volta l'esperienza è grande non solo appunto per i dipendenti ma per tutta l'azienda HR, IT, manager, dipendente, chiunque sia può trarre vantaggio da questo modo di affrontare il nuovo modo che dobbiamo tutti quanti lavorare. Con questo io vi ringrazio, vi ringrazio tutti quanti, è stata veramente un'esperienza molto interessante e spero vivamente che ci siano altre occasioni in cui possiamo scambiare altre esperienze insieme a voi. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.